E tu come stai messa ad autostima? Mettiti comoda perché lo scopriamo insieme in questa puntata. Ciao, io sono Jessica Pellegrino, sono una coach e mi occupo di immagine e crescita personale. In questa puntata ci tengo a raccontarti quella che è per me la definizione di autostima e soprattutto come si relaziona al modo in cui noi ci sentiamo sicure di noi stesse e come si riflette poi sulla nostra immagine esteriore. Andiamo un po' a ritroso parlando di quella che è l'autostima. Togliendo un po' la definizione che penso conosciamo un po' tutte, l'autostima è un po' anche quel modo di amarci un po' così come siamo, quindi nella nostra totalità. Questo tipo di amore che noi proviamo per noi stesse è un modo se vogliamo di abbracciare completamente quella che è la nostra totalità, le nostre caratteristiche e il nostro valore. E in questo modo quando noi abbracciamo noi stesse andiamo anche in qualche modo ad accettare chi siamo nella nostra totalità. E spesso questo penso ti renderai conto anche tu che non accade perché appunto quando noi andiamo a relazionarci in contesti esterni come può essere la relazione con le persone nel lavoro, nella vita o anche semplicemente quando ci guardiamo allo specchio, c'è sempre qualcosa che va a minare quella sicurezza e quella stima che noi proviamo per noi stesse. Ti sei mai chiesta a che cosa è dovuto quel blocco che magari non ti spinge a osare di più nell'abbigliamento oppure a mostrarti nel lavoro o comunque come dicevo anche nelle situazioni quotidiane per il valore che potresti dare agli altri, proprio perché magari un po' ti vergogni o comunque magari c'è sempre qualcosa che ti impedisce di farlo. Ecco qui si parla di autostima perché? Perché nel momento in cui noi stiamo cercando di ottenere qualcosa da noi stesse, in qualche modo lo stiamo appagando chi siamo realmente e chi siamo in questo momento. Quindi andrei a fare una distinzione tra quella che è un po' l'amore di sé e quello che è il piacersi. Una frase che ripeto spesso è che dovremmo imparare a prenderci cura di noi stesse senza chiedere nulla in cambio al nostro corpo. Ed è qui penso che sia il termine cardine di cominciare a capire in che modo può giocare al nostro vantaggio l'autostima e in che modo possiamo accedere alle nostre risorse per poter ottenere comunque quella sicurezza senza dover per forza cambiare qualcosa di noi stesse. E qui non fraintendetemi, non vi sto dicendo di non migliorarvi mai perché siamo penso un continuo work in progress, quindi siamo continuamente un'evoluzione di noi stesse da qui fino alla fine dei nostri giorni. Quindi penso che sia molto bello il fatto di cominciare a guardarci con obiettività e capire magari che in questo momento noi abbiamo delle caratteristiche che alcune possono piacerci e altre meno. Però sicuramente di fatto possiamo avere dentro di noi quel valore e quelle risorse che ci possono permettere intanto di darci una motivazione per prenderci cura di quello che già abbiamo. E questo poi diventa un po' il cuore pulsante di tutta la nostra routine, le nostre abitudini, quello che noi mettiamo in campo per sentirci bene con noi stesse. E qui passo a un piccolo esempio pratico. Se io ad esempio voglio prendermi cura di me, non devo aspettare di dimagrire o di mettere massa muscolare o di modificare qualcosa di me stessa. Quindi magari, non so, devo imparare quella lingua straniera così mi sentirò più sicura di me quando parlerò con i miei capi, i miei capi d'ufficio. Oppure devo perdere 10 chili perché solo così potrò sentirmi sicura quando mi relazionerò con amici o comunque altre persone che conoscerò in altri contesti mondani. Insomma, sono tutti esempi che mi stanno chiedendo qualcosa nello specifico. E quindi se io non ho 10 chili in meno, se non ho la conoscenza della lingua straniera, se non ho un naso perfetto o delle gambe supertoniche, allora non potrò avere la motivazione per prendermi cura di me. In realtà è tutto un ciclo inverso, perché se noi ci pensiamo, noi siamo esseri preziosi. Siamo delle donne che comunque hanno nella loro totalità un bene prezioso, un'unicità che va mantenuta e preservata. Ed ecco che qui è il motore pulsante nel dire, ok, io mi prendo cura di quello che già ho. Voi che cosa fareste se qualcuno vi donasse qualcosa di prezioso? Un diamante. Immaginate un diamante dal valore inestimabile. Che cosa fareste voi con quel diamante? Ve ne prendereste cura? Fareste in modo che nessuno lo possa rubare, lo possa graffiare, lo possa far cadere? Quindi lo maneggiate con cura, lo lucidate, vi prendete cura di quell'oggetto perché è molto prezioso. Allo stesso modo dovete vedere voi stesse in questi termini. Voi siete già degli esseri preziosi ed è così che vi prendete cura di voi stesse. Prendete cura di quello che già c'è. Poi tutto il resto è una conseguenza. Quindi tornando all'esempio del perdere 10 chili, se io decido e comincio a sentire dentro di me che voglio nutrire il mio corpo e farlo stare bene, allora posso decidere di mangiare bene, di mangiare alcuni cibi che magari possono aiutarmi a migliorarmi la pelle, a farmi sentire meglio. Quindi tutto un discorso legato alla sensazione. Perché se noi partiamo dall'intenzione, riusciamo poi a compiere delle azioni che ci diano dei risultati, che possono andare nella direzione che noi vogliamo. Ma anche se non dovessimo ottenere quella cosa, quindi ad esempio perdere 10 chili, e magari ne perdiamo 5 ad esempio, noi continueremo ad amare noi stesse. Perché un conto è amarci e un conto è piacerci. Perché quello che non ci piace di noi stesse possiamo cambiarlo e migliorarlo, ma non dobbiamo avere alcuna pretesa nel decidere di cambiare quella cosa perché altrimenti non abbiamo valore e quindi non ci amiamo. Quindi è un po' come dire amare qualcuno a cui teniamo. Lo abbiamo così com'è, a prescindere dal fatto che potrebbe migliorare in determinate cose caratteriali o fisiche che sia. Allo stesso modo dobbiamo guardare a questo verso noi stesse. Quindi tenete conto che noi viviamo una relazione la più lunga della nostra vita proprio con noi stesse. Ed è quella relazione che è una storia d'amore dove noi abbiamo il pieno controllo e il pieno potere di noi stesse. Quindi qui possiamo avere una scelta, possiamo scegliere di vivere una storia d'amore epica oppure possiamo vivere una storia d'amore fatta così, giusto perché dovevamo, forse fatta anche a tavolino, un po' a livello contrattuale se vogliamo, un po' come si scambiavano una volta i voti noziali, no? Quindi ci si sposava con matrimoni combinati e quindi ti ritrovi con quella persona che non hai scelto. Noi possiamo scegliere quindi come vivere queste due relazioni. Anzi questa relazione è viverla in due modi completamente diversi. Quindi sta a noi poter scegliere e capire in che modo vivere quella relazione epica. Perché se noi siamo il cuore pulsante della nostra vita, allora possiamo scegliere di viverla a pieno ritmo oppure vivere semplicemente sopravvivendo. Quindi qua lascio a voi la scelta e soprattutto direi, se vi va potete assolutamente continuare ad esplorare un po' il tema dell'autostima con il mio corso gratuito che si chiama Risveglia la tua forza interiore e lo trovate sul mio sito jessicapellegrino.com nella sezione in regalo. E ovviamente io vi aspetto per la prossima puntata. Intanto vi consiglio anche di iscrivervi al mio canale così da non perdervi tutte le prossime puntate che farò per voi. Un bacio ragazze, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS